Allora, riprendiamo iniziando l'argomento successivo, che è un argomento abbastanza denso, ci terrà compagnia per un po' di tempo, non tanto perché sia difficile da definire, ma perché ha delle ramificazioni in cui si può poi usare in molti modi diversi, che è quello di liste tabelle. Gli esempi che abbiamo fatto col pretesto dell'esercizio della briscola in cui si spiega le funzioni, il main eccetera, le trovate anche sulle slide spiegate, anche se sono spiegate più teoricamente, io ho preferito farle emergere via via lavorando sul codice, però dovrebbero essere scritte le stesse cose. Allora, dicevamo che ci serve inventarci un modo per gestire delle quantità variabili oppure quantità elevate di informazioni senza dover definire tante variabili singole e quindi definire dei cosiddetti contenitori, cioè delle strutture dati che permettono di contenere, delle variabili che permettono di contenere altre variabili. Il contenitore più semplice, all'ilà della stringa che contiene caratteri, il contenitore più semplice definito, però è limitato perché la stringa può solo contenere caratteri e basta, è la lista. La lista è definita come un tipo di dato che può contenere a sua volta un numero variabile di elementi e questi elementi a loro volta sono valori di qualunque tipo. Quindi io posso avere una lista di interi, una lista di stringhe, una lista di booleani, una lista di numeri reali e questa lista può contenere due elementi, 3, 5, 10, posso aggiungere, posso cancellarli, posso riordinarli usando ovviamente le funzioni delle liste che andremo a imparare nelle prossime ore. Una lista è un pochino la generalizzazione di una stringa, nel senso che nella stringa abbiamo i caratteri e ogni caratter ha una sua posizione che è data da un indice, posizione 0, 1, 2, 3. Anche nella lista gli elementi contenuti nel contenuto realista sono indicati, identificati in una posizione numerica che va da 0 al numero di elementi meno 1. Con la differenza rispetto alle stringhe lo vedremo che in realtà, visto che il numero di elementi, i valori possono cambiare, il numero di elementi può cambiare mentre una stringa, l'abbiamo detto più volte, quando nasce è immutabile. in Python si chiamano liste, in altri linguaggi di programmazione si chiamano in modo diverso, si chiamano array, si chiamano vettori, si chiamano sequenze, il concetto grossomodo è lo stesso. Un contenitore lineare, immaginiamolo come un contenitore lineare che contiene uno dopo l'altro una serie di elementi. Il modo per definire una lista in Python è estremamente semplice, basta elencare gli elementi tra parentesi quadre. Cioè questa è la definizione di una lista che si chiama values, che contiene uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette elementi che sono numeri interi, delimitati da parentesi quadre e separati da virgola. ho definito appunto questa lista. Andiamo a vedere come è fatta la lista, per vedere come sono fatte le cose noi siamo abituati a prenderci, farci un giro su Python Tutor e vediamo come ci presenta lui le cose. Quindi io posso avere una lista di esempi 2, 7, 9, 33. Beh, non so, avevo messo dei numeri a caso. Come viene vista? Come ce la dobbiamo immaginare? Allora Python Tutor ce la fa vedere così. Dice che tu hai definito una variabile, esempio uguale. Una variabile che si chiama esempio. Il valore di questa variabile non è un numero, ma è un cassetto. Un cassetto che in questo caso ha quattro posizioni, un contenitore che ha quattro posizioni. Queste posizioni a loro volta sono i valori che hai immesso nelle singole posizioni. Quindi attraverso una sola variabile posso accedere a quattro valori interi, conoscendo il nome della variabile e l'indice della posizione in cui si trova. Quindi se io volessi dire che poi la prima variabile è l'elemento in seconda posizione, scriverò che a uguale esempio di 1, 1 è la seconda posizione, 0 è la prima, e posso creare una variabile A che faccia riferimento, che indichi il valore che stava nella posizione 1, cioè nella seconda posizione di questa lista. Quindi creare una lista è semplicemente elencare i valori che essa contiene, se io già li conosco tutti, tra parentesi quadre. Accedere a un singolo valore, lo si può fare indicando l'indice della sua posizione, tra parentesi quadre, e usare questo valore in un'altra segnazione, in un altro tipo di espressione. ma in più posso fare una cosa che con le stringhe non potevo fare, che è quello di modificare un valore. Quindi quando io identifico un elemento della lista, posso decidere, dopo che l'ho creata, di modificare il valore di messa contenuto. Una lista è una struttura dati mutabile, può essere cambiata. E quindi proviamo a dire che dopo che ho estratto A, posso modificare l'esempio 1, e lo faccio diventare, era 7, lo faccio diventare 77. Vediamo cosa succede. Definiamo la lista, estraiamo il primo elemento, in questo caso abbiamo due modi di arrivare a questo 7. Un modo è la variabile A, l'altro modo è esempio di 1. sono due modi alternativi che mi fanno arrivare allo stesso valore. Cominciamo a imparare un termine, questo si chiama alias, hanno alias, cioè un altro nome, nomi equivalenti, che arrivano allo stesso valore. Se io faccio esempio 1 uguale a 77, cosa fa Python? Legge il ramo destro, 77. Crea un valore 77 e poi fai in modo che la seconda casella di quella lista punti al nuovo valore. Il valore di A, visto che nessuno l'ha toccato, A continuerà a puntare al 7. Così. Quindi io se vedo la lista esempio, vedrò che i suoi valori sono, i valori di innesso contenuti sono 2, 77, 9, 33. E quindi il fatto che prima A fosse un sinonimo di esempio di 1, adesso non lo è più perché esempio di 1 l'ho cambiato. E A rimane ovviamente a far riferimento al valore che aveva, con cui è stato inizializzato. Quindi io posso definire una lista, dando gli elementi, consultare, usare il valore che c'è in un elemento di una lista, oppure modificare il valore che ha un elemento di una lista. semplicemente tutte e tre queste cose, definizione della lista, estrazione di un valore e modifica di un valore, si fanno sempre con la stessa sintassi, parentesi quadre, che è già la sintassi che usavamo per le stringhe. Semplicemente ciò che trovo dentro una lista non è detto che sia un singolo carattere, può essere qualunque tipo di valore. Le slide le disegnano così, con i valori scritti dentro i quadratini, ma la rappresentazione più corretta è quella che vedevamo su Python Tutor, dove il valore sta fuori. Infatti quando abbiamo fatto A uguale esempio di 1, c'era quel valore unico che era condiviso da due percorsi diversi. Mentre invece se lo vediamo qua, questa rappresentazione è più semplice, se lo troviamo spesso è quella che è del libro, ma non è così accurata, quindi rischiamo di farsi il modello mentale sbagliato. Allora, list e stringhe si somigliano con che differenze? Perché sintaticamente si usa la parentesi quadra, ma le differenze principali sono due. Una lista può contenere qualunque tipo di valori, comprese stringhe. Mentre invece una stringa può solo contenere caratteri. Le liste possono essere modificate, le stringhe no. Quindi è possibile modificare un singolo elemento di una lista, non è possibile modificare un singolo carattere di una stringa. Non solo, una lista, posso aggiungere elementi, adesso vediamo tra un attimo come, aggiungere elementi oppure cancellare elementi esistenti. In una stringa tutto questo non lo posso fare. Cos'hanno in comune list e stringhe? In comune sono che sono entrambi contenitori. La parola contenitore l'abbiamo già sentita una volta, quando abbiamo parlato del ciclo for. Il ciclo for iterava su un contenitore e noi abbiamo visto due tipi di contenitore al momento, le stringhe e il range. Il fatto che io chiami liste contenitori vuol dire che un ciclo for può essere usato per iterare sugli elementi di una lista, proprio perché è una forma di contenitore. La prima cosa che hanno in comune con le stringhe è che sono contenitori anch'essi e quindi ad esempio posso usare il for per iterarci e due, che i singoli elementi si indicizzano con un valore intero che parte da zero e arriva alla lunghezza meno uno. Io posso avere una lista che contiene numeri interi, una lista che contiene numeri reali, che contiene stringhe, ma nulla vieta, tranne la mia sanità mentale, di avere delle liste che contengono dei valori misti. Cioè ogni elemento di una lista contiene un valore. Questo valore può essere un qualunque tipo di dato Python. Un intero, un reale, una stringa, un'altra lista, una lista che contiene una lista. Si può fare, sì. Anzi, lo faremo. Ovvio che se io ho una lista che contiene dati di tipo diverso diventerà poi un pochino difficile da elaborare. Non posso fare la somma dei vari elementi se non sono tutti numeri. Non posso mettere in ordine alfabetico tutti gli elementi se non sono tutte stringhe. E così via. Però, tecnicamente, non c'è nulla che lo impedisca. Ogni valore, come sempre in Python, è a sé stante. Ogni valore ha il tipo associato. Il tipo intero, reale, è associato al singolo valore e non è associato alla lista. Quindi, a differenza di altri linguaggi, facendo l'appello a tutti, no, a molti, qui, quando definisco una lista, non devo né specificare la dimensione massima, la lista cresce e si restringe in funzione degli elementi che ci metto dentro né specificare il tipo di elementi che conterrà. Ci metto dentro gli elementi che mi servono. Non c'è un vincolo. Il vincolo, chiaramente, è capire come la voglio usare. Quindi, se mi serve per memorizzare una serie di temperature, ci memorizzarò dei numeri reali e basta. Ovviamente, per accedere a un elemento uso il valore di indice, dell'indice, ma in un elemento, una lista che in questo caso ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi, se cercassi di accedere al valore di indice 8, trovo l'errore out of range. Perché cerco di accedere a un indice che non esiste. sia in lettura che in scrittura, uguale. Quindi, come sempre, i valori degli indici validi valgono tra 0 e la lunghezza della lista meno 1. Altrimenti, trovo un'eccezione. Vabbè, questo... Per comodità, una cosa molto comoda che anche qua in altri linguaggi non c'è, se io devo vedere cosa c'è dentro una lista, io posso passare direttamente la lista alla funzione print. E me la stampa già, mi stampa già tutti gli elementi con questa sua sintassi, parentesi quadre e virgole. Se la volessi stampare in un modo diverso, ovviamente non posso. Quindi, proviamo a vederlo sul nostro codice. No, cosa fai qua? Liste. Quindi, definisco una lista che ho chiamato, come ho chiamato prima, di esempio, che contiene i valori 3, 7, 9, 33 e posso fare tranquillamente print di esempio. e questa mi stamperà la lista in questo formato. Non mi piace, io i numeri li voglio anziché messi così li voglio uno per riga, uno a capo, uno sotto l'altro. E come faccio? Non posso. Per stampare l'uno sotto l'altro dovrei stampare il primo, il secondo, il terzo e il quarto. allora mi li stampa uno sotto l'altro. O se voglio stampare uno in fila all'altro senza la virgola metterò end uguale a quello che già sappiamo fare con la print. Però, per comodità, soprattutto mentre stiamo sviluppando il programma, mettere una print che mi stampi in una stringa può essere comoda. ovviamente questo codice qua non lo scriveremo mai. Se io voglio stampare i vari elementi non scrivo quattro volte print ma faccio un ciclo for che faccia quattro volte la print. Quindi in questo caso farei for i in i in range quattro print esempio di dove i uguale a zero uno, due, tre nelle quattro iterazioni del ciclo. Questa cosa qua non la voglio vedere neanche per sbaglio. Faccio print o faccio qualche altra operazione prendo gli elementi uno per volta. E cos'è quattro? quattro sarà il numero di elementi di questa lista. Il numero di elementi di questa lista si può ottenere ad esempio anche per non scrivere il quattro che poi se aggiungo un elemento non me lo stampa se ne tolgo uno mi da errore posso farmelo calcolare direttamente qua. la funzione len che abbiamo usato per calcolare la lunghezza di una stringa in realtà lei è più generale perché ritorna il numero di elementi in un contenitore e una lista è un contenitore. Quindi in questo caso len di esempio vale quattro perché esempio contiene quattro elementi e infatti questo ciclo for viene eseguito quattro volte. ma qui non ho aggiunto nulla semplicemente so che l'accesso a un elemento si ottiene attraverso l'indicizzazione quindi parentesi quadri e valore numerico dell'indice e come fare viaggiare un valore intero i tra 0 e 3 già lo sapevo fare. grazie ovviamente a usare la conoscenza della funzione len che mi dice quanti elementi ci sono e quindi mi fa capire il ciclo fino a quanto deve andare avanti. Poi dobbiamo fare un po' attenzione ai dettagli sulla sintassi. Ad esempio questa prima sintassi identifica il quinto elemento di una lista che si chiama values. ok? Quindi facciamo attenzione magari a vediamolo qua nella console definio questo esempio che ha definito questa variabile esempio ecco così vediamo nel debugger come mi fa vedere le liste me la mostra in forma compatta oppure la posso espandere e mi mostra che all'indice 0 c'è il valore 3 all'indice 1 c'è il valore 7 e la lunghezza è 4 quindi se voglio entrare nel dettaglio dei contenuti di una lista nel debugger lo posso vedere io posso fare come dicevamo prima esempio di 1 mettiamo 2 cambiamo e mi dice che vale 9 oppure posso modificare esempio di 2 uguale 18 e va a modificare il 18 il singolo elemento attenzione a non confondervi e non fare così cosa fa questa istruzione esempio uguale a 18 distrugge no non dà errore cosa fa Python lato destro dell'uguale espressione mi dà un numero intero che vale 18 ok lato sinistro è una variabile esiste già quindi vuol dire che questa variabile anziché puntare al valore che puntava prima cioè la lista punterà al nuovo valore cioè il 18 distruggo la lista la dimentico e adesso esempio sarà farà riferimento non più a una lista bensì a un singolo numero intero ok allora un conto è assegnare un valore a un elemento della lista e va a modificare il singolo valore alla singola casella un conto è assegnare un valore alla variabile lista che la riscrive completamente quando uso la variabile senza rappresentanti quadri intendo la variabile nel suo complesso se la stampo la stampo tutta se la uso la uso tutta se la modifico la modifico tutta quindi butto via quello che avevo se ho le parentesi quadri invece sto parlando del singolo elemento quindi se stampo stampo solo quel valore se la modifico modifico solo quel valore e tutto il resto della lista rimane invariato abbiamo delle operazioni che agiscono sul singolo valore abbiamo delle operazioni che agiscono sull'intera lista e distingo tra le due dal fatto che abbia o non abbia l'operatore di indicizzazione ossia le parentesi quadri questo è il ciclo di stampa che abbiamo visto prima che bisogna ricordarsi se devo iterare il valore di una lista conviene sempre usare la lenda ma ve l'ho accennato prima la lista è un contenitore quindi nessuno mi vieta di usare il ciclo for per iterare direttamente sugli elementi del contenitore qui avevo scritto per stampare questa lista for i in range l'end esempio quindi l'indice la variabile di controllo di questo ciclo è questa variabile i che sarà un numero intero che varia da 0,3 io lo stesso risultato lo posso ottenere facendo for v in esempio print v cosa sto facendo? sto dicendo esempio è un contenitore quindi posso avere un ciclo for che prende uno per uno gli elementi di questo contenitore e li mette ad ogni interazione in una variabile qui l'ho chiamata v e non i per ricordarmi che è un valore non è un indice quindi questo valore v alla prima interazione varrà non 0 ma varrà 3 il v alla seconda iterazione v prende il valore 7 alla terza iterazione v prende il valore 9 e così via questo l'abbiamo già visto quando iteravamo sulle stringhe carattere per carattere in cui ogni iterazione ch la variabile carattere prendeva il valore del carattere successivo quindi in questo caso stamperò direttamente questo valore se io faccio run di questo programma mi stampa la prima volta col ciclo for range la seconda volta me lo stampa col ciclo for contenitore quindi nel primo caso uso il for per generare una serie di indici il range fa questo una serie di indici che sono numeri interi che vanno da 0 a 3 la i assumerà i valori 0 1 2 3 poi non stampo 0 1 2 3 ma uso lo 0 per indicizzare esempio e quindi mi estrae il primo valore poi userò l'1 per indicizzare esempio mi estraerà il secondo valore e così via quindi ciclo sugli indici di una lista lo dico così sotto invece ciclo sui valori di una lista qui non costruisco nessun range non ho dei numeri interi ma v sono direttamente i valori della lista stessa per fare questa operazione di stampa sono equivalenti questo secondo è più comodo è più veloce il primo devo generare un indice e poi usare l'indice per restare l'elemento e beh qua mi genero direttamente l'elemento l'unico difetto di questa seconda possibilità è che non ho il valore dell'indice non so quanto vale l'indice e quindi se volessi stampare sia il valore che la sua posizione nella posizione 0 c'è il valore 3 nella posizione 1 c'è il valore 7 nella posizione 2 c'è il valore 9 questo che ho fatto qua sotto non lo posso fare perché io so che c'è un valore 3 un 7 un 9 ma quando viva le 9 non ho modo di sapere che v stava alla posizione 2 ci sono dei casi in cui mi serve conoscere l'indice benissimo usiamo la formula normale con il range di interi ci sono dei casi in cui mi serve solo sapere il valore non mi interessa l'indice usiamo la forma diretta di interazione sul contenuto ok perché altrimenti in questa seconda forma qualcuno di voi saprebbe dirmi come faccio a sapere quando viva le 9 chi è nella seconda posizione no meglio qualcuno potrebbe venire in mente ma non osa dirlo per come ho fatto la domanda find che c'è sulle stringhe ricordate il find per trovare anche la c'è anche sulle liste però non usiamolo non pensiamolo perché nel caso in cui ci siano elementi duplicati il find mi trova il primo non mi trova quello che sto stampando adesso quindi non è non è l'operazione inversa del range però abbiamo queste due possibilità è molto comodo iterare direttamente sugli elementi c'è in realtà un trucco se ci servisse l'uovo e la gallina cioè se volessimo avere un ciclo for in cui all'interno abbiamo sia l'elemento che il suo valore voi mi state dentro ma non ci serve perché in realtà ce l'hai già cioè qua io posso scrivere benissimo v uguale esempio di e quindi ho sia l'indice che il valore è un po' no? è la stessa cosa semplicemente creata una variabile intermedia che ho chiamato v quindi quei v che sto generando sopra sono gli stessi v che sto generando sotto con in più il l'indice i che mi che mi dice dove sono arrivato o lì mi serve se immaginate dover stampare solamente gli elementi il cui indice è multiplo di 7 allora ti serve sapere il valore dell'indice no? solo che è un po' antipatico dover ad ogni giro visto che sto analizzando gli elementi di una lista andare a lavorare sull'indice ogni volta andare a chiedere la lista senti ma dov'è il tuo quinto elemento dov'è il tuo sesto elemento dov'è il tuo settimo elemento perché tanto so che li voglio in sequenza allora ciò che è suggerito sulle slide dice guarda che c'è un modo per iterare contemporaneamente su indice valore e fa uso di una funzione che si chiama enumerate cosa fa enumerate? enumerate crea da una lista di valori cioè esempio una lista di coppie di valori e in queste coppie c'è nel primo elemento l'indice e nel secondo il valore allora in questo ciclo for io posso estrarre ad ogni iterazione non un valore ma una coppia di valori l'indice è una coppia di numeri l'indice e il valore e quindi posso fare la stessa cosa che facevo prima questo è quello che viene stampato sotto quindi ho queste tre forme mi serve l'indice ok range di len ricordiamoci len perché se la è più lunga più corta il range deve arrivare al numero giusto di elementi mi serve solo il valore la forma più semplice mi serve sia indice che valore beh o uso la forma che usa l'indice e poi mi estraggo il valore a mano oppure con enumerate fa tutto lui fa la stessa cosa sono modi alternativi di fare la stessa cosa enumerate non ha bisogno del len enumerate prende una lista e restituisce una lista solo che la lista nuova non è fatta di elementi ma è fatta di coppie di coppie valore dell'indice valore della lista valore dell'indice valore della lista e io quindi nella istruzione for vado a estrarre i due elementi della coppia gli do due nomi diversi i e v allora in esercizi alla fine tutte le volte che dobbiamo fare delle operazioni sugli elementi di una lista si troverà sempre una di queste tre forme quindi abituiamoci a saltare da una all'altra fanno tutte e tre la stessa cosa però dipende di quali sono dipende qual è l'informazione che mi serve vabbè questo allora vediamo di fare delle operazioni sulle liste noi abbiamo torniamo su python tutor io ho fatto una lista di esempi che ho chiamato esempio e proviamo a pensare se scrivesse questa istruzione cosa succede togliamo queste cose di sotto che non ci servono più allora il mio esempio è questo se faccio l'esecuzione di altro uguale esempio sto come ragione a python esempio lato destro dell'uguale c'è un'espressione questa espressione che cos'è è un valore di tipo lista ok quel valore lì sulla sistema uguale c'è una variabile altra non l'ho mai vista prima quindi la visualizzo la creo la creo e la faccio puntare a quel valore che casualmente è lo stesso valore a cui puntava già un'altra variabile va bene quindi in questo caso ho un alias ho due nomi di variabili che fanno riferimento allo stesso valore e fin qua è dalla prima lezione che facciamo queste cose ma questa volta il valore è una lista allora se io andassi a modificare un elemento della prima esempio di due lo metto a zero cosa succede? metto a zero il terzo elemento della lista di esempio però non è che c'è una lista di esempio che è diversa dalla lista altra sono la stessa lista ha due nomi ma è la stessa lista quindi in realtà sto modificando l'elemento due di quella lista che c'è disegnata sotto quindi sto modificando questo qui non voglio più che punti a nove punterà a zero va bene però sia esempio che altra puntano la stessa lista e quindi in qualche modo ho modificato un elemento di esempio ma ho modificato anche l'elemento corrispondente di altra perché sono la stessa lista sono la stessa lista quindi modifico una viene modificata anche l'altra perché in realtà ce n'era una sola che aveva due nomi ok questo è un problema che non abbiamo mai incontrato finora perché abbiamo lavorato con string e numeri che sono immutabili quindi quando facevo una coppia e volevo modificarlo in realtà veniva sempre fatta un'altra coppia nuova e quello vecchio continuava a puntare al valore vecchio qui no qui sto copiando non questo uguale qui è la chiave non sto copiando il valore ma sto copiando il riferimento ok tu punti a quel valore anch'io voglio puntare lo stesso valore che hai tu e quindi condividiamo la stessa lista le modifiche che faccio su quella lista attraverso una variabile si riflettono ovviamente anche attraverso l'altra variabile perché in realtà la lista è una sola e che è quello che abbiamo visto se io non volessi questo ma volessi fare una lista diversa devo scriverlo in modo diverso crediamo un'altra variabile una terza variabile con questa istruzione list list è un'istruzione che crea una lista partendo da un contenitore esistente in questo caso partendo da una lista però crea una lista quindi guardiamo la differenza quando assegno a una lista il valore di un'altra lista sto creando un alias alla stessa lista non ho creato nuovi valori quando uso la funzione list creo una nuova lista che viene popolata con gli elementi di una lista esistente di un contenitore esistente in questo caso è una lista quindi va bene ma è una nuova lista separata da quella precedente una nuova lista che condivide gli stessi valori perché io quando ho creato una nuova lista ci ho copiato dentro i valori che c'erano nella lista precedente costruisci una nuova lista partendo dai valori contenuti in una lista in un contenitore precedente quindi vedete che le liste sono diverse ma il 2 compare una volta sola è condiviso il 7 è condiviso il 9 è condiviso eccetera ma ho creato un cassetto diverso un contenitore diverso adesso quando modifico esempio di 2 che cosa succederà? esempio la sua freccia punta al primo contenitore esempio di 2 punta a questa casella questa freccia che adesso evidenzio di rosso se riesco che punta al 9 come succedeva già prima punterà al 2 e quindi la posizione 2 della lista esempio varrà 0 punterà lo 0 non al 2 punterà lo 0 la posizione 2 della lista esempio varrà 0 la posizione 2 della lista altra varrà 0 perché è la stessa lista la posizione 2 della lista terza non si è accorta di niente perché in quell'istruzione che sto per eseguire sto andando a modificare quella freccia rossa non l'altra non sto andando a modificare il 9 un 9 non si può modificare è un intero sto andando a modificare la destinazione della freccia che è contenuta nella casella 2 della prima vista così adesso l'ha messo in un posto strano questo 0 ma questa casella qua la freccia rossa che prima puntava al 9 adesso punta lo 0 e l'altra freccia sotto continua a puntare al suo 9 non ho modificato il 9 ho modificato il terzo elemento della lista facendo in modo che non punti più al 9 ma punti allo 0 quindi cerchiamo di imprimersi bene in mente la differenza sostanziale tra creare un alias di una lista e creare una copia di una lista dimmi sì assolutamente una volta che ho un alias ho creato un alias la cosa è perfettamente reciproca quindi se modifico esempio si modifica anche altra ma se modifico altra si modifica anche esempio assolutamente sono da quel momento in poi sono sinonimi sono due modi diversi di chiamare la stessa cosa quindi io posso modificare il contenuto della lista o può accedere o può accedere o leggere il contenuto della lista attraverso un nome attraverso l'altro è indifferente ci sono dei perché python ci fa venire questo mal di testa ma perché ci sono dei casi in cui ci serve l'una dei casi in cui ci serve l'altra possibilità e questo meccanismo di alias lo apprezzeremo molto nel senso che dovremmo capirlo meglio quando mescoleremo le liste e le funzioni cioè cosa succede quando passa una lista a una funzione ma andiamo per gradi però citiamo che è molto diverso fare queste due cose è il primo caso in cui ci poniamo il problema perché è la prima struttura dati mutabile che può essere modificata ok vabbè questo è poi cosa ci posso fare sulle liste vabbè questo è un dettaglio che valeva già sulle stringhe ma non vi ho rotto le scatole all'epoca gli indici di un contenitore possono anche essere negativi e non positivi io ho sempre detto l'indice di una stringa va da 0 alla sua lunghezza meno 1 l'indice di una lista va da 0 la sua lunghezza meno 1 e quindi sono tutti positivi in realtà possiamo anche usare degli indici negativi che identificano gli elementi a partire dal fondo e tornare indietro quindi lista tra parentesi meno 1 mi va a prendere l'ultimo elemento che è la stessa cosa che scrivere lista di lunghezza meno 1 è comunque l'ultimo elemento ma non ci darai troppa attenzione può essere comodo ma non cambia sostanzialmente allora cosa ci posso fare sulle liste allora su un singolo elemento cosa posso fare un singolo elemento è un numero è un valore posso fare tutto ciò che potevo fare su un numero incremento decremento lo stampo lo modifico ma non abbiamo non abbiamo giunto nulla ma invece sulla lista in quanto tale allora io vi ho detto una lista ci ho messo dentro quattro elementi ma non ha una lunghezza fissa può crescere aumentare aggiungere elementi oppure ridurli come si fa per raggiungere un elemento c'è una funzione che si chiama append è un metodo della lista append come dice il nome aggiunge un elemento appeso in fondo per ultimo quindi io posso partire da una lista non l'abbiamo ancora citato ma questa sintassi rappresenta la lista di zero elementi un po' come la stringa vuota che è una stringa di zero caratteri e poi posso appenderci un primo elemento e eventualmente altri elementi ogni volta questa lista viene modificata e si aggiungono nuovi valori la lista viene modificata attenzione alle parole che ho detto non viene creata una nuova lista con un elemento in più si modifica la lista stessa cioè se io qua vado ad aggiungere il mio esempio appendo 1000 fin qua ci eravamo arrivati sapevamo cosa succedeva se faccio append di 1000 ad esempio cosa farà? lui prenderà questa lista con tutti i nomi che ha esempio e altra e ci aggiungerà un'altra casellina in più che punta 1000 non ho creato una nuova lista ho modificato la lista già esistente e quindi tutti gli alias che puntavano quella lista vedranno il valore modificato vedranno adesso una lista di 5 elementi non più 4 aggiungere all'inizio si può si può perché append se non sbaglio ha due parametri no non è append scusami è insert c'è la funzione insert che inserisce un oggetto prima di un certo indice e quindi se la voglio inserire all'inizio uso la funzione insert insert di 500 me la dovrebbe inserire come primo elemento ah no scusa mi serve un secondo argomento della funzione scusami che cosa e dove se la voglio inserire in testa scrivo virgola 0 e quindi me lo dove l'ha messo non me l'ha messo vabbè lo si vede che Python Tutor si è impallato è uno degli vari metodi adesso poi vedremo la tabella completa delle operazioni che posso fare con le liste l'insert per inserire un elemento in mezzo c'è scritto qua ah si perché ho sbagliato io scusate prima la posizione e poi l'elemento non è 500 0 ma è 0 500 eccolo qua è diventata una lista di 6 elementi in cui ho messo un elemento 500 quindi torniamo alle slide se voglio aggiungere un elemento in fondo alla lista uso append se voglio aggiungere un elemento all'inizio della lista oppure in una posizione intermedia uso il metodo insert il primo argomento è l'indice davanti al quale inserire l'elemento prima del quale inserire l'elemento e il secondo argomento è l'elemento da inserire gli altri elementi scritto qua tra virgolette si spostano in avanti per fargli spazio ok quindi diverso è dire diverso è dire esempio di 0 uguale a 500 rispetto ad esempio punto insert 0500 perché in entrambi i casi nella casella di indice 0 andrà a finire il valore 500 nel caso del insert non perdo nulla perché dove prima c'era un valore viene spostato a destra tutto spinto più avanti viene aggiunto un elemento in fondo e lì ci va a finire il 500 nel caso dell'uguale il 500 va nello 0 ma ciò che c'era prima nello 0 viene perso con la insert ciò che c'era prima nello 0 va nella casella 1 ciò che c'era prima nella 1 va a finire nella 2 e così via posso chiedere una lista se contiene un certo valore oppure no operazione operatore in se valore in lista e lui mi dice si o no attenzione non è un for in questo è un if in quindi la parola chiave in viene usata con un significato diverso l'abbiamo già visto sulle stringhe per cercare una sottostringa qui non troviamo che una sottostringa ma c'è anche un elemento nella lista c'è quell'elemento o no nel nostro esempio c'è il valore 100 if 100 in esempio vero o falso chiaro che posso andarlo a cercare anche facendo un ciclo vado a vedere se c'è nella posizione 1 oppure nella 2 oppure nella 3 oppure nella 4 ma l'operatore in mi fa già lui la ricerca mi fa già lui la ricerca su tutto l'elemento su tutti gli elementi della lista in mi dice se c'è o se non c'è ma non mi dice dov'è per sapere dov'è posso usare il metodo index 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 prende una lista prende un elemento e mi dice dove si trova quell'elemento se c'è se non c'è genera un errore genera un'eccezione interrompe il programma con un value error cioè se cerco di estrarre l'indice di un elemento che non c'è quindi non ha un indice il programma si schianta allora tipicamente ciò che si è scritto qua nella nota è non usare l'indice se non hai prima controllato con una in che l'elemento effettivamente ci sia vediamo il nostro esempio prendiamo la console avevamo il mio esempio che conteneva adesso l'abbiamo sporcata rimettiamoci dei valori esempio punto index dimmi dove c'è dov'è il 9 e mi dice il 9 è nella posizione 2 se gli chiedo dimmi dov'è il 19 mi genera un errore perché il 19 non c'è infatti se mi chiedo se il 9 sia in esempio è true ma se il 19 sia in esempio è falso avendo ovviamente questo valore qua per esempio allora abbiamo visto come cercare elementi come aggiungere elementi e come facciamo a toglierli allora il contrario di insert si chiama pop il metodo pop rimuove dalla lista un elemento dandogli un certo indice specificando l'indice quindi pop di 0 cancellerà dalla lista l'elemento 0 ovviamente quell'elemento deve esistere e così come quando faccio la insert gli elementi successivi si spostano in avanti di una quando faccio un pop gli elementi successivi si sposteranno indietro di una posizione in modo da riempire il buco in una lista tutte le posizioni devono essere piene non posso avere dei buchi a metà e quindi la lunghezza della lista si ridurrà di una posizione di una di un valore un'altra operazione che posso fare con le liste così già come facevo fare con le stringhe è la concatenazione aggiungere liste insieme quindi se ho due liste posso crearne una terza usando il più che mette insieme in fila gli elementi della prima lista seguiti dagli elementi della seconda lista questo può essere anche usato come un metodo alternativo per aggiungere un elemento in coda noi abbiamo fatto e vado a prendere il python tutor appendi mille per appendere in fondo un valore potremmo anche dire ma se io voglio prendere questa lista e aggiungerci un elemento potrei anche fare esempio immaginiamo che dovrei aggiungere mille uno più mille uno attenzione non ho scritto più mille uno come numero questo sarebbe un errore perché non posso sommare una lista più un numero intero non avrebbe senso ma sommo una lista di 4 o 5 elementi quanti ce ne sono in quel punto a una lista di un elemento solo la somma mi darà una lista una nuova lista attenzione alle paroline una nuova lista che contiene gli elementi della prima più gli elementi della seconda che è uno solo quindi conterrà solo lui crea una nuova lista l'ho chiamato aggiunta vediamo cosa succede quindi io ho la mia lista esempio che conteneva questi 5 elementi 2 7 9 33 1000 poi ci voglio aggiungere ancora mille uno come quinto elemento in questo caso lo faccio su un'altra variabile per non incasinarmi troppo ma poi proviamo a rimettere la stessa vado avanti ovviamente mi ha creato un'altra variabile aggiunta che contiene gli elementi di esempio compreso il 1000 che avevo aggiunto dopo e poi un elemento in più questa ha 6 elementi quindi ho aggiunto un elemento concatenando una lista di dimensione 1 attenzione però che le operazioni di concatenazione crea una nuova lista quindi se io provassi a scrivere esempio uguale esempio più un nuovo elemento perché io voglio in realtà aggiungere l'elemento alla lista esempio non un'altra otterrei un risultato che esempio uguale esempio più 1000 1 allora sono qua quindi esempio contiene 5 elementi esempio è un alias di altra aggiungo questa istruzione eseguo questa istruzione e cosa succede? succede che esempio vai dai vai esempio anziché esempio scusate esempio ho sbagliato il nome della variabile ok eseguo questa istruzione e succede una cosa strana esempio giustamente punta a una lista che contiene 6 elementi di cui gli ultimi due elementi sono 1000 e 1001 quindi effettivamente esempio è la lista di prima con un elemento in più ma non è più la stessa lista di prima è un'altra e infatti altra che era un alias di esempio non è più alias cioè ho creato una nuova lista copiando gli elementi della prima e poi riassegnando alla stessa variabile che puntava la prima lista il valore il riferimento alla nuova lista in gergo diciamo che ho rotto l'alias ho perso l'alias due nomi che puntavano la stessa lista una delle due l'ho manipolata in modo non accorto magari lo volevo fare per carità ma se lo faccio per sbaglio pensavo che questi due nomi si riferissero alla stessa lista invece si riferiscono alla lista da adesso in poi si riferiranno a liste diverse di chi è la colpa di sta roba se di colpa si può parlare è una colpa combinata combinata dall'operatore più che quando crea una concatenazione crea sempre una lista nuova però lui ha solo metà della colpa l'altra colpa è questo uguale qua è uguale questo vale le regole di Python della prima lezione quando faccio variabile uguale valore sto modificando la frecciolina a cui punta quella variabile sempre è sempre stato così e quindi facciamo attenzione se noi questo ci interesserà come dicevo tra qualche giorno non ancora adesso ma cominciamo a metterci un campanello d'allarme quando voglio modificare una lista devo sempre chiedermi sto modificando quella lista lì o sto creando un'altra lista modificata non mi accorgo della differenza a meno che non ci sia un alias c'è due variabili che puntano la stessa lista allora lì sì che me ne accorgo e quando è che devo creare gli alias quando sono masochista sì anche ma anche quando uso le funzioni dove invece avvengono naturalmente queste cose sia nel passaggio dei valori che nel return e lì quindi dovremo approfondirlo ma per ora cominciamo a distinguere bene su quali sono le operazioni che modificano una lista rispetto alle operazioni che creano una nuova lista modificata le mettiamo in due categorie diverse e infatti c'è un'altra operazione per concatenare due liste che si chiama extend che è un metodo della lista cioè nelle funzioni delle liste ci accorgeremo spesso che ci sono dei doppioni ma non sono a caso per concatenare due liste posso fare pari uguali pari più dispari e creo una nuova lista in cui travaso gli elementi oppure posso fare pari punto extend di dispari che aggiunge nella stessa lista di prima dei pari aggiunge i dispari quindi la prima istruzione è creare una nuova lista rompendo eventuali alias nella seconda variante invece modifico la lista esistente e quindi se questa lista aveva degli alias sto modificando anche loro in un certo senso ci sono i momenti in cui mi serve uno e i momenti in cui mi serve l'altro l'importante è che sia capace a distinguere diciamo che l'elemento rilevatore rivelatore rivelatore è questo uguale qua variabile uguale mi fa automaticamente perdere il valore precedente dimmi finché non ho alias il valore finale che ottengo attraverso la variabile pari sarà esattamente lo stesso indistinguibile sono nomi un po' strani di questi metodi che un po' a volte si somigliano ad esempio noi abbiamo visto append ed extend in realtà sono metodi diversi append aggiunge un elemento e quindi l'argomento di append è un valore non è una lista extend invece con catena e quindi l'argomento di extend non può essere un valore ma deve essere una lista a parte i nomini un po' strani ma se state impararli non è grave ma questa confusione qua tra l'altro è una confusione abbastanza indolore se sbagliamo ci accorgiamo che il risultato mi dà errore questa altra confusione invece non mi dà errori di esecuzione del codice semplicemente però c'è un valore che magari non è quello che mi aspettavo altre operazioni che posso fare sulle stringhe tutte no vedete che molte sono simili a quelle che avevo sulle stringhe operazioni che posso fare sulle liste molte sono simili a quelle che avevo sulle stringhe e guarda caso sono quelle che creano una nuova lista già sulle stringhe potevo concatenare e lì creavo una nuova stringa ma era l'unica opzione qua in più ho un metodo che concatena dentro la stessa stringa dentro la stessa lista perdono nelle stringhe potevo replicare moltiplicare una stringa per creare tante coppie di se stessa lo posso fare anche sulle sulle liste ovviamente sto creando una nuova c'è l'uguale qua sto creando una nuova lista posso confrontare tra di loro due liste in un unico botto senza dover fare un ciclo per confrontare uno a uno gli elementi e due liste si considerano uguali se hanno lo stesso numero di elementi e gli stessi valori nello stesso ordine quindi nel secondo esempio 1,4,9 e 4,1,9 contengono gli stessi valori ma sono in ordine diverso quindi è importante che l'elemento 0 della prima sia uguale all'elemento 0 della seconda l'elemento 1 della prima sia uguale all'elemento 1 della seconda e così via fino alla fine e due liste possono essere uguali solo se hanno lo stesso numero di elementi quindi ad esempio queste due sotto qualunque sia i valori degli elementi che contengono non potranno mai essere uguali perché una ha tre elementi e l'altra ne sono solo due in particolare un test che può essere comodo per vedere se una lista è vuota oppure non è vuota per vedere se una lista è vuota posso scrivere len di lista uguale 0 oppure lista uguale aperta e chiusa quadra che è la rappresentazione della lista vuota voglio fare operazioni su una lista ad esempio la somma dei valori degli elementi di una lista la funzione sum ma c'è anche max ma c'è anche min max e min già le conoscevamo perché potevano lavorare anche su dei numeri sciolti ma lavorano anche sulle liste vanno la somma o il massimo o il minimo dei valori contenuti tra l'altro la somma ha senso solo con numeri quindi la funzione somma si può fare se io ho una lista che contiene solo numeri quindi la mia lista di esempio la devo prendere qua che conteneva solo numeri io posso fare la somma di esempio mi fa 52 cioè 3 più 7 più 9 più 33 posso calcolare il minimo della lista che è 3 il massimo della lista che è 33 se io avessi una lista invece che contiene dei nomi ad esempio Pinco e Pallino non ha senso fare la somma dei nomi e lui mi dice guarda io dovrei fare la somma partendo da 0 che è un intero non ci posso sommare una stringa perché le stringhe non si possono sommare si potrebbero concatenare che è una cosa diversa non la chiamo somma però invece posso calcolare il minimo e il massimo il minimo tra Pinco e Pallino e Pallino e il massimo invece sarà Pinco se non ci confondiamo dimmi l'uguale se tu vuoi togliere un valore e mettere al posto di quel valore un altro valore semplicemente fai lista di 7 uguale nuovo valore e lo sostituisce non devo cancellarlo per inferiore uno nuovo ma sostituisco il riferimento di quello esistente nessuna di queste funzioni massimo minimo somma può funzionare con liste miste cioè se io avessi una lista e voglio calcolare il massimo di una lista che contiene 1 3 7 e x fare il massimo di una lista di interi di numeri si può il massimo di una lista di stringhe si può e usa ovviamente i confronti lessicografici in ordine quasi alfabetico se io mescolo le cose non posso perché ovviamente per trovare il massimo lui deve confrontare ciascun elemento con gli altri e confrontare una stringa con una stringa si può un numero con un numero si può un numero con una stringa quindi ovviamente queste funzioni ci sono e si possono usare dove hanno senso la somma dove gli argomenti sono tutti i numeri massimo e minimo dove gli argomenti sono tutti dello stesso tipo o tutti i numeri o tutte le stringhe poi c'è un altro metodo molto utile che mette in ordine crescente gli elementi di una lista e anche di questo ci sono le due varianti quella che modifica la lista esistente che è un metodo della lista punto sort quello che crea una nuova lista ordinata che è una funzione che si chiama sorted quindi se io creo adesso il mio esempio qua era già ordinato quindi devo cambiarlo no? che ne so i voti facciamo finta di avere una lista con dei voti e lì mi arrivano no 17 non è un voto 27 25 poi c'è 30 poi c'è 28 prendiamo solo quelli belli perché tanto e poi un 29 e poi magari un altro 25 io posso fatemi fare ok usare sulla variabile voti che è una lista e il metodo sort il metodo sort va a modificare il contenuto della lista senza modificare la lista stessa ok e quindi ottengo i voti se li voglio stampare sempre con una lista con gli stessi valori ma rimescolati di posizione in questo caso il 25 c'era due volte quindi continua a comparire due volte ma nella sua posizione insieme al minimo nella sua posizione iniziale viceversa se io andassi a rimettere il valore di prima potrei scrivere la funzione sorted di voti che prende i voti che ho li mette in ordine e mi restituisce una nuova lista quando io ho scritto sorted di voti vedo che i voti stessi non sono cambiati 27, 25, 30, 28, 29, 25 ma questo nuovo valore può essere messa in una nuova variabile voti ordinati che è una nuova lista che posso memorizzare in un'altra variabile o nella stessa variabile dipende cosa voglio fare ok quindi come già abbiamo cominciato ad abituarci ci sono due modi di fare una cosa della stessa cosa una modificando la lista e l'altra creando una lista nuova e se io i voti li volessi ordinare dal più grande al più piccolo vabbè se andate a vedere la funzione sort vedete che ha un argomento opzionale che si chiama reverse quindi se le dico reverse uguale true me li stampa in ordine inverso me li stampa perdono me li ordina in ordine inverso dal più grande al più piccolo e questo parametro opzionale esiste sia nel metodo sort sia nella funzione sort dimmi non ti sento scusa una lista non di numeri ma di string ah sì una lista di string si può ordinare così come una lista di numeri verranno messe le string in ordine pseudo alfabetico ovviamente seguendo il codice unicode quindi sort di string si può fare noi avevamo i nostri i nostri nomi dove pinco e pallino veniva prima pinco che in realtà è alfabeticamente successivo se io faccio nomi.sort mi stampo nomi mi metterà prima pallino che pinco anche qua così come la funzione max e min non posso chiedere di ordinare delle liste che contengono dei valori misti quindi o tutti i numeri o tutte stringhe se è una lista che contiene un po' di numeri e un po' di stringhe non può essere ordinata perché lui non può confrontare per capire chi deve venire prima e chi deve venire dopo dimmi il problema il problema di maiuscola e minuscola c'è sempre nel senso che se io o meglio c'è sempre il problema tu lo chiami problema per lui va benissimo no? nel senso che se io ho nomi uguale pallino punto pinco con la una maiuscola l'altra minuscola poiché pallino è ci sembra che venga prima PA rispetto a pinco che è PI ma se io faccio un sorted di nomi mi stampa prima pinco che pallino perché la P maiuscola ha un codice numerico che è precedente minore rispetto al codice numerico della P minuscola quindi se questo mi dà fastidio l'unico modo sarà prima di crearmi una lista in cui metto i nomi in maiuscola abbiamo tempo di farlo no? ad esempio io posso avere ordina nomi una lista di nomi che contiene dentro della roba maiuscola con delle lettere un po' maiuscole un po' minuscole no? che ne so mettiamo così cioè un po' di tutto perché magari gli utenti me l'hanno inserito in questo modo e ovviamente se io stampassi il sorte di questi nomi qua verranno prima quelli con la lettera maiuscola e poi quelli con la lettera minuscola quindi il povero Antonio che inizia con la A non si ritrova in prima posizione ma se volessi ordinare invece ignorando maiuscole e minuscole e quello che posso fare è crearmi un'altra lista in cui ci metto gli stessi nomi di prima tutti in maiuscolo ad esempio quindi nomi due come faccio a crearla? beh creo una lista vuota e poi ci aggiungo dentro gli elementi della prima lista uno per volta ma mettendoli in maiuscolo for nome in nomi nomi due punto append nome punto upper cioè con questo ciclo for vado a prendere uno per uno queste stringhe ciascuna di queste stringhe nome la prima volta Giovanni secondo Antonio non è che la converto perché non la sto modificando ne creo la versione tutta in maiuscolo e queste versioni tutte in maiuscolo le aggiungo in coda a una lista nuova nomi due che inizia vuota e poi via via si popolerà con i vari elementi questa lista nomi due la possiamo vedere è fatta così questa nomi due è la lista uguale a nomi ma dove ho messo tutti gli elementi maiuscolo ma non sono inordinati se io faccio il sorte di nomi due saranno ordinati tenendo conto del fatto che sono tutti in maiuscolo questo tra l'altro è lo schema che si usa molto spesso per costruire una lista perché qua è raro il caso in cui io sappia già quali sono gli elementi di una lista li calcolo un po' per volta parto da una lista vuota e poi ci aggiungo gli elementi man mano che li scopro perché? perché li ho presi in un'altra lista perché li leggo in input perché vengono fuori da qualche calcolo e ogni volta faccio un append e cresce così la lunghezza di questa lista via via alla fine del ciclo for avrò la lista definitiva l'altro modo sarebbe stato quello di modificare direttamente i nomi qua dentro qui ho voluto creare una lista nomi due per non toccare quella là che magari mi serviva altrimenti avrei potuto semplicemente dire fori in range len nomi nomi di uguale nomi di punto upper quindi vado anche qua a prendere uno per uno gli elementi della lista nomi questa volta li vado a prendere per indice perché per indice? perché mi serve l'indice per sapere dove andare a sostituire quello diverso quello modificato li prendo uno per uno li metto in maiuscolo e li sostituisco al posto di quello che c'era prima quindi in questo caso non faccio nessun append perché non vado a creare una lista vuota in cui via via metto gli elementi ma vado a modificare direttamente a sostituire gli elementi della lista esistente poi ovviamente dopo che ho fatto questo quelli vecchi non li ho più li ho persi a meno che non mi faccia una copia prima e poi vado a modificare la copia i modi sono 100 possibili quindi impareremo giocando con le liste che molto si giocherà su iterazioni sugli elementi faccio cose aggiungo cancello ogni volta un elemento per ottenere ciò che mi serve le operazioni che agiscono sull'intera lista sono grosso modo quelle che abbiamo visto che sono riassunte in queste tabelle che vedete alla fine alla fine sono tre tabelle diverse ma che perché sono prese da siti e da libri diversi il 90% le abbiamo già viste le altre sono minori ma le vedremo alla volta prossima queste sono le operazioni predefinite che posso fare sulle liste tutto ciò che non è predefinito me lo dovrò fare a mano combinando cicli combinando segnazioni combinando le operazioni già definite ok ma su questo ovviamente continuiamo la settimana prossima buon pomeriggio